Grazie a tutti Finalmente dopo un anno personale attesa sono qui pronto per iniziare il cammino precisamente in questo momento ragazzi sul let's play di D.I.B. Guettini ragazzi cagliamoci addosso insieme signori ovviamente per chi ci sarà perché forse la maggior parte di voi ovviamente guarderà forse il primo episodio ma poi gli altri lascerà scorrere visto che probabilmente ci giocheranno perché ci sarà appunto in questo let's play lascia un mi piace ragazzi e un commento arriviamo a 20.000 per Tutte le serie possibili più belle del mondo anche perché io comunque sia continuerò a fare Mordor che tra l'altro è uscito anche oggi quindi ragazzi andate ve la vedere e non smetterò di fare le serie insomma cercherò in tutti i modi di Di gestirla bene questa cosa ragazzi andiamo a scegliere la modalità la sopravvivenza difficoltà sopravvivenza perché inesperto mi sembra un po' troppo esagerato nel chiamarla inesperta questa cosa mi piacerebbe tantissimo iniziare ad utilizzare il green screen in modo tale da farmi vedere solamente la mia facciona con nientro niente anche perché convolgerebbe un po' di più però io non ho spazio In camera quindi probabilmente ti reggio tutto in camera mia quindi non non riuscirei a farlo insomma ragazzi io come ho detto inizio video è un anno che aspetto questo videogioco è un anno che Quando l'ho visto da più di poi Che ho provato appunto la beta Rosicavo tantissimo perché volevo io ho fatto 3 miliardi di chiamate ma non c'è stato verso per farmi provare in esclusiva la beta In italiana quando incominceranno a capire che anche in italia queste cose qua vanno fatte ragazzi Bisognerebbe un po' iniziare a sfruttare appunto I numeri che facciamo che faccio che fanno tutti iniziare a portare un po' di esclusiva anche in italia ragazzi però sapete un po' tutti che l'italia È fatta così ragazzi io vorrei Inventare già subito i sottotitoli ma non so se si può però cercate di ascoltare starò zitto più possibile Signori non sarà come Mordor che skipperò farò vedere tutto ragazzi quindi Bello Iniziamo bene Ragazzi vogliamo al massimo proprio Voglio un po' capire la storia ragazzi Ecco cominciano già i disturbi Qualcuno mi Aia Che cazzo Ecco graficamente non è che sia tutta questa Benevolenza però Si apprezza ragazzi L'importante è che sia bella la storia e convolgente il gioco insomma Hai qualche idea? Ancora no Ma capiremo meglio quando arriveremo là Va bene Ecco il protagonista ragazzi Sarà stato un omicidio Un pluri omicidio Quanta polizia c'è? Ha detto che a livello di storia ragazzi è favoloso Quindi Andiamo a dare un'occhiata ragazzi Probabilmente ci saranno A meno che non abbia tantissimi impegni ragazzi Due episodi al giorno su questo videogioco Penso che si inizia adesso a giocare Ok si inizia adesso ragazzi Chiamata in emergenza Dove dobbiamo andare? Allora Andiamo di qua Sinistra Qua si può solamente Allora aspettate un secondo Mettiamo opzioni Mettiamo Lingua vabbè Italiana Contenuti grafici Sì sottotitoli Mostra Ok Così Ci siamo Mi sa che dobbiamo entrare di qua La corsa del tipo sembra un po' O comunque graficamente i filmati fanno un po' Cioè Non è che siano il massimo Però alla fine in game non è male come gioco eh Entriamo subito dentro Vediamo ragazzi cosa succede Madonna mia Odore di sangue Odore di sangue Minchia raga Noi andiamo a controllare Non far passare nessuno da questa porta Forse dovrai venire con Beacon mental hospital Siamo cosa sta succedendo Devi coprirci E' un ospedale psichiatrico ovviamente Minchia qua sono morti tutti raga Work lavoro Mamma mia che brutta roba è successa qua dentro mi sa Sentito qualcosa Eh ci sono già dei rumori un po' sospetti eh signori Il sangue è fatto molto bene Con questo si è mosso Dove 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 è qua Eccolo Che cosa Impossibile Ruvik Penso io a lui Le telecamere di sorveglianza ci diranno di più Guardiamo subito le telecamere ragazzi Immediatamente voglio sapere anche io cosa è successo Andiamo a vedere qua mi sa Ok Spari Cos'è un poliziotto questo? Si Stanno sparando a qualcosa Cazzo Merda Madonna mia Takami a subet Merda No ste musichette regano eh Che poi mi rompono il cazzo col copyright Merda Incomincia subito ragazzi eh Sono a testa in giù Oh oh Madonna mia no cos'è cos'è calavor che è? Ma perché grugnisce? Quello è vivo Che cazzo sta facendo sto scemo? Oddio mamma sta Sta affettando uno C'è un coltello la raga E non me lo fa guardare ragazzi Sennò ve lo farei vedere Mamma mia Cazzo che cos'è? Madonna mia L'ha tagliata a metà Oddio che schifo Ah ok adesso devo cercare di prendere il coltello raga Vai eh Dai eh Vai ma lo prendi Il prossimo giro Prendilo Merda Vai L'hai preso No Eh Eh Ah Prendilo cazzo Adesso Grande L'hai preso Taglia tutto Taglia tutto Ok Allora Sei Sei libero Però non è che sia una gran cosa Perché Ora Ora devi cercare di Di passare il tipo Come faccio E i comandi Me li volete spiegare Per favore Allora Accovaccia TR1 Accovacciamoci Devo tenerlo premuto Cazzo C'hai il coltello zio Questo devi ucciderlo Oddio Sta andando via Aspè Minchia c'è l'intestino lì Allora Cerchiamo di Seguirlo in una maniera Adeguata Che ti vede un bec Ma mi ha già ucciso Oh cazzo Madonna mia che schifo Mi ha mozzato la testa a metà Mamma mia che brutto lavoro Sono facilmente impressionabile Per queste cose ragazzi Però cerchiamo di Iniziare a capire un po' Perché Vedo che ti metto un po' lo sbaraglio Tu premi R1 Accovaccia Ti puoi fare quel cazzo che vuoi Però Allora Dobbiamo un po' capire la Ah là ci sono delle chiavi Le ho viste Le ho viste Ok Piano piano Questo c'ha un po' di problemi Ma posso ucciderlo? No Mi sa di no Mi sa di no Non mi ha visto Ok Non mi ha visto Le chiavi Che prima non c'erano O c'erano Mazzano di chiavi Traumato nel semi Interrato dell'ospedale Psichiatra Non è utilizzata Prima che l'ospedale Si dotasse di modelli Sistemi di sicurezza Ok E mo Oh io sta roba Sta musica qua La devo spegnere In qualche modo Oddio sta tornando Regà Sta torna Via Accomaccati Che cazzo è Regà Di qua Apri Ma che devo fa' Ok Apri 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 Ok Piano eh Allora qua Se premo qualsiasi tasto Non mi dice niente Quindi io Devo premere solo l'R1 In questo caso Picchiato per andare pianino Con i passi E probabilmente Non sentirete neanche L'audio del gioco Raga Perché c'è sto cazzo Di canzone qua Che ho paura Che me la segnali No C'è un problema Zio Oh cazzo Con la motosega Ma che stai scherzà Corri Eh corri C'è l'ho dietro C'è l'ho dietro C'è l'ho dietro Apri Merda Oh che cazzo è Ma questo mi ha colpito Regà Oh cazzo Cazzo corri Corri No regà È impossibile Oddio Apri Salta giù Madonna mia Ok Nello scivolo Dei cadaveri Nello scivolo Dei cadaveri Oh cazzo Sono sicuro Che se Qua devo stare Molto attento Perché si muore Qui eh Mamma mia Che schifo Mi viene il vomito Mi viene il vomito Mi viene il vomito Signori Oh my god Però è figo Perché parte subito Io avevo paura Che iniziasse molto lento Come gioco Invece parte subito Perché anche per voi Deve Per chi non Lo guarderà tutto da me Deve capire un po' Come Il titolo Se merita o meno E fino ad ora Ancora devo Inquadrarlo bene Ma è normale Come penso tutti Se di fatto che C'ho una gamba Steccata Perché Colpito da motosega Quindi zoppico Ora qua dove devo andare Destra O sinistra Andiamo a sinistra A vedere cosa c'è Eh non si vede un cazzo Regà Non è che sono io Che tengo la luminosità basse Non si vede proprio un cazzo Madonna mia Sta tosse Allora Cerchiamo di andare là ragazzi Vediamo cosa succede Poi dopo ci vediamo Al prossimo episodio Visto che sono già 15 minuti Che sto registrando Quindi Minchia E' un rumore Che non è che mi piace tantissimo Sta memma qua Non è che mi garba tantissimo Saliamo Via Spero che sia acqua Che se è qualcos'altro C'è un po' da preoccuparsi Ok Ok Cerca di rimanere Più calmo possibile Gabbo Vediamo se sta porta qua Mi porta da qualche parte Porta Portami qualche parte No Sì Cosa c'è qui Siediti Zio Siediti No Non puoi sederti E' una porta inutile Però si è chiusa Sì Ok Va bene Qua non c'è un cazzo Signori Torniamo ad uscire Cerchiamo di andare Fin là in fondo Ok Che c'è un po' più di luce Almeno capiamo un po' com'è Che qua non è che Non sto chiedendo anche Aspetta qua c'è qualcosa Che luccica Vecchia nota delle fogne Oltre a porta chiusa In fondo alle fogne C'è una scala Che conduce al vecchio reparto Se riesce ad attraversare Una scensura Che porta all'esterno Potresti essere l'unica persona A scappare L'unica a sopravvivere Grazie Queste parole Mi incoraggiano tantissimo Non vedo perché Io dobbia essere L'unico A sopravvivere Niente Sta porta qua è chiusa Non ho capito Che è inutile Fare porte inutili È giusto che sia così Cerchiamo di entrare qua dentro C'è una camminata un po' strana Perché è normale Mi hanno appena segato una gamba Per chi Vediamo se Ok Sali Grande Sali su Sali su Sempre più su Sempre più su Sempre più su Ho paura di cosa Mi aspetti su Ho proprio paura Vai pianino Che tanto nessuno ti corre dietro Almeno per il momento Perché visto che c'hai una gamba Che un po' Non va alla grande Ok Sembra che sia qualcosa Di tranquillo qua Ecco Che bella cosa Pensavo di trovare I cadavoli appesi Scene di sesso Niente Qua c'è una nota Una nota Inizio test del sistema STEM Funziona Confermata la sincronizzazione Delle onde celebrare Comparate i temi nime L'esprimimento procede A raccolta di dati in corso Un'omalia che non coinvolge l'oggetto Il soggetto La persona che annota i dati Afferma di sentirsi male E poi entra in come Per ragioni sconosciute Il personale Mette che ne ha usato I presenti perdono Conoscenza nello prato Chi è ancora in sé Poi dovrebbe aspedare Ma che persona misteriosa Dovrebbe essere spenta Ma le onde celebrare Del soggetto Sono ancora sincronizzata Con quelle elefonte Lui Quello è l'uomo Ha perso Perfetto Doviamo cercare di capire Queste cose ragazzi Perché Sicuramente serviranno A qualcosa Riguardo all'antella storia Ok Per adesso Tutto tranquillo Tutto normale Checkpoint signori Quindi io Direi che qua È il punto giusto Per fermare Per creare hype Per creare attesa Di questo fantastico gioco Ragazzi Che se mi promette davvero bene Io vi saluto e vi ringrazio Domani Domani ragazzi Ora Adesso dovrò cercare di gestire un po' Tutta la scaletta Per gli orari Anche perché comunque C'è sempre un roto di Vision One E c'è sempre Mordor Che interessa Quasi 40.000 persone Ragazzi Lasciate un mi piace E un commento Andate nella mia pagina Facebook Che trovate in descrizione Per vedere tutti gli orari Per appunto Seguire tutti insieme Appassionatamente Questo fantastico gioco Io vi saluto e vi ringrazio Qui da Gabrile Squad È tutto È di Ave Weedin Lasciate un like Iscrivetevi al canale Bella raga Grazie a tutti